ciao nella scorsa lezione quando abbiamo parlato di infografiche io ho accennato a un elemento di canva la griglia però in realtà non mi sono soffermata quindi oggi volevo dedicare una breve lezione per spiegare questo strumento che può essere molto molto utile allora apriamo come al solito una nuova un nuovo progetto io scelgo presentazione ma ormai abbiamo imparato che potrebbe essere qualsiasi cosa andando su elementi e scrivendo nella casella di ricerca griglie compare nella colonna di sinistra questa scelta dunque intanto impara che tutte le volte che canva propone una forma al cui interno c'è il disegno di questo paesaggio significa che in quella forma è possibile inserire un altro elemento che coprirà tutto lo spazio a disposizione le griglie sono delle forme che possono essere suddivise in forme più piccole canva le mette proprio in ordine cioè parte dalla prima che è unica poi ti propone griglie a due settori verticali o orizzontali di dimensioni uguali oppure diverse e poi man mano che scendi verso il basso vedi che questi spazi aumentano aumentano sempre di più ovviamente gli spazi più aumentano più diventano piccoli quindi dipende molto da quello che tu vuoi inserire per farti vedere come funziona io sceglierò adesso una griglia abbastanza semplice ecco di questo tipo cliccando sulla griglia ecco quello che accade la griglia va ad occupare esattamente tutta la pagina bianca ma io posso decidere prendendo il pallino a lato di rimpicciolire questa griglia o addirittura di modificarne le dimensioni quindi parte occupando tutto lo spazio ma io poi posso scegliere quello che preferisco adesso la rimpicciolisco un attimo perché voglio farti vedere un'altra cosa se io mi posiziono sullo sfondo e clicco il tasto del colore ecco qua io posso colorare lo sfondo perché l'ho fatto perché adesso allargo di nuovo tutto adesso vedi che qui c'è il colore dello sfondo che abbiamo scelto cosa significa questo significa che i tre settori della griglia non sono appiccicati c'è uno spazio tra l'uno e l'altro non solo ma questo spazio può essere modificato come faccio semplice una volta che ho cliccato la mia griglia vado su spaziatura spaziatura della griglia quindi muovendo il pallino guarda quello che succede la spaziatura cioè lo spazio tra un settore e l'altro aumenta o diminuisce questo è importante saperlo perché avendo sempre uno spazio visibile bisognerà tenere d'occhio il colore dello sfondo quindi bisognerà scegliere un colore che stia bene con le immagini che io voglio inserire e cosa posso inserire nella griglia posso inserire qualsiasi cosa vado su elementi e vado a prendere ecco qua foto questa che abbiamo già usato in una lezione precedente nel momento in cui io clicco sulla foto ovviamente canva cosa fa me la mette sulla pagina e quindi come abbiamo già imparato al di sopra di ciò che c'è già perché se ti ricordi l'ultimo elemento viene sempre posizionato a livello superiore ma se io cliccando su questa foto vedi la sposto tenendo cliccato il mouse posso scegliere dove inserirla in questo caso l'ho inserita qua cliccando due volte sulla foto che ho inserito io posso anche spostarla allora in questo caso io l'ho messa in una sezione che avevo già previsto di questo tipo e quindi la foto diciamo che coincide con lo spazio perché la forma è quella giusta quindi questo sarà un altro particolare a cui devi fare attenzione ma io avrei potuto decidere di inserire questa immagine non in questo spazio che andava già bene ma magari in uno spazio qui sotto cliccando due volte sulla foto vedi che canva ti dà la dimensione reale della foto che ha inserito certo questa parte non si vede si vede solo questa perché la sezione che hai a disposizione è questa ma una volta che hai cliccato due volte e tenendo sempre schiacciato il tastino sinistro del mouse tu puoi spostare vedi la foto all'interno della forma poi clicchi fuori ed ecco che l'hai sistemata quindi è possibile anche aggiustare le immagini che inserisci anche se in un primo momento la loro forma non è perfettamente adeguata al riquadro che hai a disposizione certo così facendo vedi che una parte sempre viene cancellata allora in questo caso la parte che viene cancellata è solo uno sfondo nero non ci interessa ma in altri casi potrebbe essere importante torniamo alla nostra scelta principale che comunque mi sembra la migliore e inseriamo qualcosa d'altro io posso inserire anche un video allora vado a scegliere ecco questo stessa operazione di prima tengo premuto e inserisco in una forma ovviamente il video partirà senza nessun problema posso anche inserire un elemento ma qui devo fare attenzione perché non tutti gli elementi si prestano a questo inserimento facciamo un esempio proviamo clicco trascino ed ecco che si inserisce perfettamente se voglio inserire un elemento di questo tipo dovrò fare qualche tentativo perché alcuni elementi io li posso solo sovrapporre ma non li posso inserire nel momento in cui inserisco un elemento senza sfondo è evidente che ciò che si vede è molto diverso rispetto a una fotografia o rispetto a un video perché in questo caso l'elemento non copre tutta la misura della forma che abbiamo a disposizione ma si vede lo sfondo ecco quindi un altro motivo per cui io devo stare attento al colore che scelgo per lo sfondo parliamo di elementi aggiungiamo una pagina io vado a prendere di nuovo una griglia e ok benissimo non mi importa adesso la spaziatura perché non mi importa perché adesso io voglio inserire degli elementi tipo quello che ho inserito prima quindi voglio inserire degli elementi che risalteranno sullo sfondo quindi non mi interessa se qui c'è tanta o poca spaziatura perché in realtà io questa parte non la vedrò allora cosa posso fare posso inserire questo vedi che l'immagine diventa grande quanto la forma che io ho a disposizione e poi vado a cercarne magari un altro vediamo se questo fa al caso nostro esatto vedi che nel momento in cui io ho inserito questi due elementi che non hanno sfondo io non vedo più la mia parte di divisione state a questo punto valutare se è importante avere gli elementi raccolti e ordinati e quindi usare una griglia che poi sparirà oppure utilizzare la griglia per inserire delle foto o dei video e mantenere gli elementi di spaziatura adesso togliamo questo e infiliamo di nuovo una foto in modo da avere il discorso più chiaro allora come vedi in questo caso la griglia mi può essere utile perché se io ho delle immagini che voglio far stare tutte in una pagina in questo modo io ho già la possibilità di inserirle in modo ordinato mi basta semplicemente scegliere la forma che voglio dare alla mia pagina in base al numero di foto che devo inserire giocare sulla spaziatura della della mia griglia per aumentare o per diminuire i bordi posso anche rimpicciolire la mia griglia e guarda un po e cambiarle la forma perché magari qui inserisco un testo e io tratto questa pagina esattamente come una qualsiasi pagina come abbiamo imparato a fare posso mettere il testo qua lo ingrandisco posso inserire al di fuori della griglia un altro elemento ecco qui posso decidere una volta terminato il lavoro di cambiare lo sfondo perché questo colore non mi piace più ecco fatto quindi ho tratto tranquillamente la mia pagina come una qualsiasi pagina di presentazione il vantaggio qual è il vantaggio è che avendo inserito delle fotografie io ho questa griglia che posso in qualsiasi momento modificare spostare cioè ne posso fare veramente quello che voglio se invece io decido di inserire degli elementi che non hanno lo sfondo la griglia mi può servire per avere una guida una volta che io posiziono gli elementi se magari ne devo posizionare tanti ma so che poi la griglia non si vedrà ovviamente io posso però lavorare su ciascuna sezione né più né meno come faccio con le altre cose esempio se io scrivo gradiente posso andare a scegliere un gradiente da inserire ecco faccio questo esempio qui cambierò il colore perché altrimenti questo non si vede magari ne metto uno un po più un po più scuro ingrandisco in modo da centrare un pochino così l'immagine e poi come ho imparato a fare gli dico spostati indietro e ho dato una sfumatura di colore più scuro lavorando su questa sezione su questa sezione perché non mi interessava ad esempio che fosse qua dietro e invece qui dietro io posso inserire qualcosa d'altro di completamente diverso poi sarà a me scegliere dove lo voglio inserire gli dico mettiti dietro e io ho creato delle sfumature ho creato degli effetti e sono stata comoda perché in questo modo io sapevo su che parte precisa lavorare dopodiché tolgo tutto ed ecco che la griglia non si vede l'ho utilizzata solo come strumento per essere io più comodo per lavorare bene ma non mi interessa che il progetto nel progetto si veda quindi oggi abbiamo imparato cosa sono le griglie come possono essere utilizzate spero che questa breve lezione ti sia stata utile e ci vediamo alla prossima nella quale parleremo invece di cornici buon lavoro